e probabilmente si dirà a prendere la meglio All'inizio della curva Rimbaud e Salutation conducono davanti a Rimbaud e Salutation i cavalli entrano in dirittura con Rimbaud in vantaggio lungo la corda davanti a Salutation allo steccato opposto con all'interno Rimbaud e Salutation e in leggero vantaggio Salutation attaccato all'interno da Ricardemois seguono Sunson e Muzaree all'interno e Ricardemois all'esterno Salutation e in vantaggio Ricardemois davanti a Salutation e Sunson Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti